Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Ciao ragazzi, ben ritrovati, buongiorno e buon mercoledì a tutti. Ieri sera il Torino ha giocato la sua seconda amichevole di questa prestagione. Contro i cecchi del Mlada, Boleslav è finita 2-0, una vittoria che arriva a qualche giorno di distanza dalla sconfitta nella prima amichevole con l'Aintracht e una partita che comunque per essere una sgambata di inizio stagione ci lascia comunque qualche spunto di discussione. Chiaramente nella giornata di ieri la partita passa in secondo piano per le note vicine di mercato ma della questione Bremer vi voglio parlare poi di un video a parte che uscirà comunque in giornata e sarà l'ultimo su questo discorso visto che poi non c'è più niente da dire. Volevo invece focalizzarmi su quello che è successo in Austria dove il Toro ha vinto 2-0 un gol per tempo, il primo di Sascha Lukic poco dopo la mezz'ora, il secondo di Horvath praticamente all'ultima azione della partita con il trequartista ungherese che era entrato pochi minuti prima in una girandola di cambi che Juric si era riservato per la fine del match. È stata una partita dai ritmi abbastanza bassi dove il Toro secondo me ha evidenziato diciamo una tonicità fisica un pochino superiore rispetto a quella vista nella partita contro l'Aintracht nonostante i ciechi fossero più avanti dal punto di vista della preparazione infatti se non sbaglio loro inizieranno il campionato proprio questo weekend che viene però ecco si vede che comunque i carichi di lavoro pesanti cominciano a entrare in circolo nei fisici dei ragazzi. Toro che soprattutto nel primo tempo ha cercato di imporre il proprio gioco con del giro palla cercando di palleggiare, di non buttare via il pallone cercando anche di proporre delle azioni ragionate in avanti e rispetto alla partita con l'Aintracht si è provato di meno lo strappo in campo aperto perché comunque mentre contro i tedeschi il pallino del gioco lo tenevano in mano loro e quindi tu dovevi giocare di rimessa contro i ciechi molto molto modesti a dire la verità eri tu a dover cercare di fare la partita cosa che nel primo tempo il Toro ha provato a fare tra l'altro ho visto che nel Mlada ci sono un sacco di giocatori che già sul finire di carriera erano presenti quando ero ragazzino su PES addirittura per esempio Suki e Škoda non me li aspettavo, pensavo avessero smesso di giocare ma al di là di questa piccola nota di colore anche a livello di formazione chiaramente Juric ha dovuto optare per scelte obbligate dietro si è provato quello che probabilmente sarà il terzetto titolare almeno inizio stagione le fasce sono state presidiate da Singo e da rientrante Voivoda con Lucci, Ricci e Linetti a centrocampo e due punte che in realtà non erano due punte e qui veniamo alla prima questione ovvero io capisco che il mercato abbia suoi tempi anche se secondo me cominciamo ad essere un po' stretti questo a prescindere dalla questione Bremer perché il ritiro in Austria è quasi finito e il Torino è praticamente lo stesso dell'anno scorso senza una quantità di titolari o potenziali tali che sono andati via per i motivi che conosciamo e che quindi non sono più a disposizione del mister il problema è che Juric è stato mandato in Austria con un gruppo di giocatori dei quali quasi la metà mi viene da dire e non penso di stare esagionando troppo o non rientrano nel progetto tecnico o sono in partenza o sono giovani aggregati soltanto per fare numero e quindi non so che senso abbia lavorare in queste condizioni e vedere il Toro in campo ieri sera mi ha abbastanza dato da pensare su questo argomento nel senso che comunque avete visto il Toro giocava con un 3-4-3 praticamente in fase di possesso Lukic che si alzava in mezzo a fare il falso 9 e Radonici e Sec che si allargavano Radonici verso sinistra Sec verso destra in fase di non possesso si difendeva addirittura col 3-5-2 se così vogliamo definirlo con Lukic che scalava a fare la mezzala destra Linetti che scalava che si allargava a fare la mezzala sinistra Ricci che scendeva praticamente quasi in mezzo ai centrali difensivi e le due punte che portavano il primo pressing sul portatore di palla avversario per carità dal punto di vista tattico la partita ieri sera poteva essere fatta solo in questo modo qua mancavano appunto i giocatori per poter provare a proporre qualcosa di diverso però ecco considerato il fatto che in campo c'erano giocatori che difficilmente si ritroveranno a giocare tutti insieme nel prossimo campionato o almeno si spera che sia così sono amichevoli che lasciano il tempo che trovano contrariamente alla partita con l'Aintracht Juric comunque nel secondo tempo non ha fatto tutta la girandola di cambi nel senso che se non ricordo male al 46esimo di volti nuovi in campo ce n'erano solo due Milinkovic Savic per Berisha e Aina a sinistra per Voivoda poi piano piano sono entrati tutti alla spicciolata mi aspettavo di vedere un pochino di più i giovani perché a questo punto bisogna seriamente capire se ci sono delle possibilità concrete di inserire stabilmente qualcuno di loro in rosa per la prossima stagione sono entrati più o meno tutti alla fine della partita ciò non ha impedito a Horvath di trovare con questo guizzo finale il gol del 2-0 a proposito di gol è stato anche bello lo sviluppo dell'azione che ha portato Lukic a sfruttare quella che è una delle sue caratteristiche principali forse la migliore è che lo scorso anno lo ha aiutato anche molto in zona gol ovvero l'inserimento senza palla mi viene da dire che al momento con questa peculiarità ci sia solo lui e quindi dal mercato penso debba arrivare qualcuno che ti possa anche portare la stessa mole potenziale dei gol di Lukic 5-6 anche se quest'anno il Lukic 99% sarà il rigorista quindi qualcosina di più rispetto all'anno scorso potrebbe addirittura segnare siamo incompleti lo sappiamo noi lo sa il mister vedremo se si sbloccherà qualcosa per questo motivo ecco tornando al discorso dei giovani se vogliono imporsi e catturare l'attenzione di Juric questo è il momento migliore perché siamo talmente corti che paradossalmente praticamente tutti partono sullo stesso piano altre annotazioni un tempo a testa lo hanno giocato Buongiorno e Zima nel ruolo di centrali difensivi della difesa 3 nel primo tempo Buongiorno quindi un mancino con Riccardo Rodriguez sul centro-sinistra e scusatemi si giusto con Zima sul centro-destra Riccardo Rodriguez sul centro-sinistra e appunto Buongiorno referente centrale poi dopo una decina di minuti del secondo tempo Zima ha shiftato in centro Buongiorno è passato sul centro-sinistra e Rodriguez è uscito per lasciare spazio a Izzo che è andato a sistemarsi sul centro-destra vi devo dire che per me Buongiorno è un po' in difficoltà in quel ruolo cioè noi siamo abituati a vedere il lavoro che veniva chiesto Bremer che comunque andava ad aggredire molto alto molto spesso anche nella metà campo avversaria Buongiorno questo non lo sa ancora fare benissimo io non so se quanto ci si possa lavorare mentre invece Zima almeno da quel che mi è perso di vedere ha più i tempi per fare questo lavoro e mi viene da pensare che il Torino potrebbe anche valutare di considerarlo non solo tra le opzioni come Braccetto di destra dove comunque siamo già al momento coperti perché Izzo e Gigi al momento sono ancora nostri e vedremo in tal senso se il mercato porterà delle novità e quindi come centrale Zima potrebbe essere proponibile poi all'occorrenza puoi usare anche Buongiorno e il difensore che diciamo switcherà l'uscita di Bremer vedremo chi sarà un nome si è già fatto vedremo se e quando il Toro lo chiuderà anche lui può fare sia il centrale che il Braccetto quindi sono profili tutti abbastanza intercambiabili Zima nel secondo tempo ma anche nel primo si è proposto tantissimo davanti in appoggio all'azione offensiva molto spesso è arrivato anche in zona tiro cosa che non ha nelle corde ma sulla quale secondo me si potrebbe lavorare e lui è uno dei giocatori dai quali mi aspetto parecchio quest'anno così come mi aspetto parecchio da Ricci che secondo me ieri ha fatto un'ottima partita ormai viene utilizzato da play puro addirittura molte volte soprattutto nel primo tempo ho visto il movimento che in gergo si chiama salì dalla volpiana con il play che scala tra i difessori centrali a prendere palle a far ripartire l'azione da dietro Ricci lo sa fare molto bene tra l'altro ha impreziosito la partita con 3 o 4 lanci a 40-50 metri che sono arrivati sui piedi dei compagni ottima, buonissima partita di Lukic non solo per il gol ma anche a livello di movimenti e di dedizione tattica non benino Radonic e Dembasek mentre quest'ultimo è un arruffone si vede leve lunghe ma tecnica poca l'altro invece di tecnica ne ha un po' di più ma si perde in dribbling inutili non passa mai la palla cioè va cambiato registro consapevole del fatto che si spera non sia lui comunque il titolare sulla carta di questa stagione al prossimo giro ci sarà una mica o le colnizia altra squadra che secondo me può essere un buon test certo è che affrontarla con questo gruppo qua serve a poco purtroppo i giorni passano volti nuovi non se ne vedono io prima di parlare di possibili acquisti li voglio prima vedere a Torino perché mi pare che in queste settimane i beninformati non si siano dimostrati così bene informati con tutto quello che ne è conseguito questo è più o meno come ho visto io l'amichevole di ieri sera a Torino e Mlada ditemi la vostra con un commento qua sotto lasciate un like al video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campana degli aggiornamenti ci vediamo molto presto e sempre forza Toro grazie